Thea Kids presenta i consigli di missioni cuccioli E' importante insegnare al vostro cane a indossare la museruola perché potrebbe esservi richiesta da un pubblico ufficiale e ogni volta che entrate in un luogo pubblico Metteli la museruola senza prima averla abituato oltre ad essere una profonda mancanza di rispetto potrebbe creargli dei seri trauma Se farete come vi mostro diventerà un gioco molto divertente per tutti e due Procuratevi una vecchia museruola a cui dovete asportare la parte frontale In questo modo potrete prendere un bocconcino farlo vedere al cane e fargli inserire la testa per prenderlo Così facendo si abituerà ad indossare la museruola Buona! Quando si sarà abituato a prendere il cibo all'interno della museruola potete prendere quella nuova e inserire dei bocconcini al suo interno Ok! Dovete gratificare il cane ogni volta che inserisce il muso all'interno della museruola Proprio così! Good boy! Bravissimo! Good boy! Yeah! Bravissimo! Dopo diversi tentativi il vostro cane inserirà senza più l'uso del bocconcino il muso nella museruola Proprio così! Sciacca! Bravissimo! Premiate il cane e dopo qualche tentativo provate ad allacciare la museruola Così! Bravissimo! 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 Grazie a tutti.